Violante Leonardo, eccola qua, un applauso grandissimo alla mia piccola donato E' un piccolo donato da lei, qualche anno fa, ma ci sono proprio, mi pare tre anni, ecco A 2000, a quando un casto? Ci mi sembrava un po' di lei Allora, Violante ci suona, come leggete, insomma, ballando il minuetto del tratto del metodo Bastien E la palpa è in girasolo, esatto, dal metodo di Maria Marta Posso stare vicino? Grazie